Siamo nel senso proprio a tu per tu, non ci siamo mai parlate, è vero? Beh ma io sono stata una tua fan, sono solo tutt'ora! Come sei buona tu! Vengo da Roma, mi sono alzata alle sei e mezza, sono andata a letto tardissimo perché sono in tournée, ed ero a di sola d'asti, sono andata a letto alle sei e ho dormito mezz'ora, notte a tre ore. Beh evidentemente guarda, non si vede assolutamente niente perché sei proprio, sembri riposatissima. Io ti devo fare una domanda. Tu a me? Sì. Falla, vediamo. Tu mi devi spiegare con tutte quelle capriole che fai, destra e sinistra, Congo belga, Argentina, Bogotà, vorrei sapere tu perché sei sempre così bella, fresca, però... Io dormo la notte, questa è la differenza. Ho una vita un pochettino più legata allo sport. Posso fare una battutaccia? Io appena, qui... Ma si può dormire anche dopo, sai, non è problema. Sì. 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 Sì.